La divergenza forte sia su quanto pubblico e quanto privato, perché poi medicina territoriale mi sembra che lo dicano tutti, poi Alessandro Cattaneo invece difendeva il principio di un rapporto comunque forte con il sistema privato. Io non farei discussioni sui massimi sistemi, io sono per la sanità, ma partirei dallo stato dell'arte. Dopo il Covid si è creato un debito terapeutico molto forte, ogni regione anche quelle più avanzate ha delle liste di attesa che sono spaventose. In molte regioni per avere una visita specialistica o fare un esame si devono aspettare sei mesi, un anno, 18 mesi, due anni. In alcuni casi se non sono quelle prescritte dalla normativa ti dicono ritelefona perché non siamo in grado di darti un appuntamento. Sono molte le regioni che in questo momento sono in queste condizioni. La privatizzazione c'è già lì, perché chi ha la possibilità di accedere al privato vada al privato. Quelli che non si possono curare... La proposta poi ci confrontiamo, ma è chiaro che quello che diceva Meroni non sta in piedi per una semplice ragione. Questa emergenza si fronteggia con più risorse, poi possiamo decidere se devono andare più sul pubblico o più sul privato, ma con più risorse, perché è chiaro che noi in qualche modo durante il Covid abbiamo accumulato un debito e quindi questo va affrontato con più risorse. Se si comincia a dire che le risorse non è detto che siano spese bene, si sta bypassando questo aspetto, tenendo conto che il nostro paese è un paese che ha una spesa sanitaria pro capite, dopo molti anni di tagli, che è più bassa della media europea. Noi abbiamo magnificato il sistema sanitario italiano, ma il sistema sanitario italiano funziona con meno risorse dei sistemi sanitari di paesi omologhi. al nostro. Aggiungo una cosa, Cattaneo l'ha citato e su questo sono d'accordo e rincaro, perché gli infermieri e i dottori che hanno dei salari molto più bassi dei loro colleghi europei, non è che stanno tutti fermi e aspettano che aumentino i salari, molti di questi prendono e vanno a lavorare in altri paesi. Quindi noi ci troveremo non solo una situazione di emergenza, ma un'emergenza che si crea sull'emergenza. Se il governo non parte da questo presupposto, tutte le discussioni che possiamo fare rischiano di essere campate assolutamente per aria. Adesso mettiamoci lì intorno a un tavolo e discutiamo di dove si trovano le risorse, ma partiamo tutti dalla comune convinzione che sulla sanità servono più risorse di quelle che sono state stanziate finora. Questo è il punto fondamentale. Poi io penso che la sanità pubblica, la sua centralità vada rafforzata e penso che la sanità privata spesso si è presa i pezzi pregiati delle prestazioni, lasciando a quella pubblica i pezzi più poveri. Molte volte esercitando un'attività di lobby fortissima sui consigli regionali. Da dove stornerebbe le risorse in questo quadro di conti pubblici, il Partito Democratico, per metterle sulla sanità, quanti soldi sono? Non lo so, non è che adesso io sono qua. Penso che in un bilancio come quello dello Stato ci siano le risorse necessarie. Intanto bisognerebbe spendere le risorse del PNRR, questo sarebbe un fatto già di grandissima importanza e questo consentirebbe anche di evitare di gravare su tutta una serie di investimenti che invece ritornano sulla finanza ordinaria se non si utilizza il PNRR. Questo è un primo punto. Ma poi si può discutere, io non so, ci saranno risorse nell'ambito della pubblica amministrazione di priorità che sono meno importanti, ma non c'è niente di più importante in questo momento di ridurre le liste d'attesa. Non dico neanche la sanità, dico le liste d'attesa, perché nella mia regione è stata commissarata un'indagine che il 5% delle persone rinuncia alle cure, quelle persone lì non sanno dove andare e decido di non curarsi più, anche se hanno patologie gravi. Allora, Salvatore Merlo, sulla...